Il massimo del controllo, il massimo del design, il massimo del comfort, il massimo dell'affidabilità. È arrivata Ford Focus C-Max. Preparatevi al massimo a 19.750 euro. Chino Martini, l'amaro dolce. Acquista subito un cellulare Vodafone Live. E avrai gratis il servizio Go Live per tutto il campionato. Vodafone. Tutti intorno a te. Nuovo Nestle Sveltesse. Prova il gusto di scoprire l'ombelico. Nuovo Sveltesse. Cremoso. Straordinariamente cremoso. Ricco di brutta. Tanti gusti golosi. Ma zero un per cento di grassi. Scopri l'ombelico. Con Nuovo Sveltesse. Da Nestle. C'è posto? Il posto è tuo. Davvero? Vieni. Il lavoro sarà... Lontano, sì. Lontano da qui. E cos'è che faresti? L'accademia. Ma se non devi segnare. È per questo che... Vado. Ovunque sarò, tu sarai sempre. Qui accanto a me. Cantuccini e sapori. Veri toscani. La Biblioteca Universale. Il primo libro in regalo il 26 novembre con il giorno e il resto del Carlino alla nazione. Aveva un sogno. Questo destino mi è stato affidato da Giulio Cesare. Più grande della sua stessa vita. Sono orgoglioso di essere un romano! E lo realizzò a qualunque costo. Ti voglio bene. Tu non sei capace di amare nessuno, tranne che il tuo perfetto impero romano. Un cast stellare. Sta facendo esattamente il nostro gioco. Roma lo inghiottirà in un boccone. E inghiottirà te con lui? Per una storia senza tempo. Io non sono un re. A Roma nessuno. E avrà fabbricato una trappola con una bomba. E chi trova i soldi provoca una strage. Se Alex non riesce a scoprire qualcosa, qui si mette male. Sai di che cosa è fatta la nitroglicerina? Vuoi venire o rimanere qui? Su, vieni! Va alla fermata dell'autobus. Ci siamo passati davanti ieri. Dio, proprio sopra la zina. Se qualcuno spara, saltiamo tutti in aria. Il commissario Rex. Venerdì 20.55, Rai 1.